bella a tutti ragazzi che fra rossi 46 e siamo a via merina in compagnia di bombecraft 12 e il nostro caro mico e qui noi già faremo un giro in mezzo che al boschetto adesso siamo in un odore che c'è una puzza tremenda perché poi sopra la fogna e niente ragazzi vi prego voi non vi annoiate per favore quando vedrete questo video se lo vedrete perché qui faremo delle passeggiate solo avventura passeremo in mezzo ai fraschi e tutto però tipo vi prometto che il prossimo video non sarà noioso sarà o beccali tutti che è una challenge che noi dovremmo vabbè tanto lo so che sicuramente sapete cos'è poi oppure faremo un gameplay a casa mia con loro tipo cod gta online però tipo c'è bombecraft 12 e mirko insieme a meno e non compariranno in tutti i video però si staranno con me siamo amici così però non facciamo i video a coppie e lo stesso io a bombercraft 12 e quindi appena arrivi in questo video noi le vostre cazzo le faccia da merda questo video faremo cameraman io in parte e in parte bomber craft 12 e vi devo dire una cosa prima di iniziare che ottobre noi saremo a roma a romix e niente quindi lo so che noi adesso non siamo nessuno però così se ci volete conoscere di persona che abbiamo iniziato a fare youtube però se ci volete conoscere di persona a romix ottobre siamo lì ok e ora inizieremo eccoci qua raga e adesso noi partiremo il cameraman anzi noi viaggeremo insieme purtroppo questo ricchione però lo farà lo farà mirko il cameraman ora andiamo faremo così faremo così delle passeggiate poi come ho già detto non vi annoiate per favore quando vedete questo video viaggeremo niente ok andiamo ok andiamo che è Francesco eh bomber no mi sta dietro eh f***ing b***h vediamolo vediamolo vediamo vai ok non corremo tanto se no gli fanno umbriaca questi quando vedono il video per di là qua raga iscrivervi al canale di frarossicata iscrivetevi al mio canale anche al suo ovviamente di bomber craft 12 riprendi what the fuck ma che è un passo di un'auto sì credo guardate qui c'è di tutto ragazzi siamo a via mirina ci stavano l'antichi ma non penso che questo facciano parte dell'antichi sono pezzi di pari sì ci danno pari di quello che è volevo arrampicarmi però ci ripenso ci sono troppi spirina ma lasciamo la telecamera Mirko vai che ti guarda il culo vai a portarci ti dico baudo eh eh non ci dice ora raga dal cielo ok ragazzi mi piace la mia manina? adesso faremo questa bella discesina ragazzi mi faccio vedere io cioè una cosa del genere tipo non pare non sembra ripida ma è così mi faccio vedere da vicino se mettete due mi piace questa Francesca la farà con la bici cioè raga è velocità vabbè ragazzi ragazzi se voi per favore fare metterete tutti mi piace vi iscriverete al mio canale e al suo almeno tre like almeno sì va bene almeno tre like e almeno uno o due iscritti quanti sono noi faremo tutto quello che ci chiederete però vi prego faremo delle sfide assurde quello che volete basta che voi se vende che scopate beh appunto lui è ricchione con femmina potrebbe andare bene dai e niente raga va bene così e ti faccio la cameraman? no vabbè dico vabbè adesso faccio io il cameraman raga e quindi vabbè come stavamo dicendo per favore scrivetesi fateci fare figure ai nostri ai nostri canali mio e di bomber non fateci fare figure de merda a poche parole ok vai ci sei? vai 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 oh oh porcagna questa è una discesa epica che mamma mucchio olè momenti se mucchio il nostro bomber craft 12 ragazzi cioè mi potete capire adesso se trovo ecco qua ragazzi guardate ecco qui a partita là a partita qui così no vabbè ragazzi è che ho le scarpe nuove l'esporti ho le force tipo ti lascio raga come ho detto voi sempre dei like degli iscritti e noi faremo quello che vorrete video assurdi e tutto basta che non sia quello che abbiamo detto prima poi i gameplay francese se ti va chiamaci se no fargli la solo che cosa? i gameplay quindi i giochi si gameplay tipo potremmo fare anche delle sfide tra di noi poi sfide per momento devo riuscire a farmi un account nuovo per l'online che mi sono perso la password e quindi appena posso faremo dei gameplay cioè gameplay posso fare sulla storia così oppure cazzeggiare in GTA 5 online questo account poi come ho già detto credo all'inizio ma mi sa di no che dato che io faccio delle moto in questo canale non faccio solo gameplay e sfide ma farò anche dato che io faccio le gare moto dei video così che sono in pista per chi gli piacciono le moto poi se non vedo che i video con le moto andranno bene non li toglierò e ok qui per questo video è tutto ci vedremo al prossimo video da posso dire una cosa? vada sempre così eh all'inizio di ogni video così eh lo so perché Monu stiamo a registrare con il mio se no lo dicevano il mio ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale di bohmecraft cioè io bohmecraft12 di iscrivervi al canale di bohmecraft12 diciamo per cosa se ne sentite che schifo dai vabbè perché il canale è mio quindi lasciare un bel like perché ci siamo diciamo un bel pollicione un bel pollicione lascia la linea lui fra i rossi 46 ok per questo video è tutto da fra i rossi 46 bohmecraft12 e bella ci vediamo al prossimo video ciao ciao